Giovedì 28 di luglio, l'informazione di Senigallia Web TV, ben trovati. Colpo lampo nella notte, nella gioielleria Capodaglie, lungo corso 2 giugno, dove 4 banditi sono entrati dopo aver sfondato la porta d'ingresso e aver prima alzato la sala cinesca. Il furto è avvenuto intorno alle 4.30 della notte scorsa, in circa due minuti, in gente il bottino sul posto i carabinieri per i rilievi. Infermiere preso a pugni da un tossico dipendente nella sala d'attesa del pronto soccorso di Senigallia, dove sono dovuti intervenire i carabinieri per riportare la calma. L'ennesimo episodio, quello avvenuto martedì sera, quando un giovane, già noto al personale, si è presentato dicendo di sentirsi male. È stato fatto accomodare, poi è uscito per raggiungere una panchina. Nel frattempo è arrivato il padre, che forse per velocizzare i tempi è entrato chiedendo di intervenire in fretta perché il figlio era svenuto. Quando l'infermiere ha chiesto al padre di reggere il cappello del figlio, questi avrebbe iniziato ad inveire contro di lui. Si sarebbe alzato e ha sferrato due pugni che hanno raggiunto l'infermiere alla bocca e al braccio. Un incidente a Senigallia ieri pomeriggio. Un ragazzo di 30 anni, mentre attraversava la strada, è stato investito da un'automobile in transito lungo via Podestia, all'altezza del supermercato Lidl. Sul posto i mezzi di soccorso e una pattuglia della Polizia Municipale per i rilievi. Prosegue la nostra marcia di avvicinamento a questa diciassettesima edizione del Summer Jamboree di Senigallia. Oggi ospite ai nostri microfoni c'è Alessandro Piccinini, uno degli organizzatori del festival. Allora, c'è una direzione di fondo che è un po' sempre la stessa da un po' di anni legata all'idea di fondere gioia, di condividere veramente un momento di grande spensiratezza ma di grande anche unione che è veramente collegato al movimento del rock and roll. Poi, dal punto di vista più propriamente legato alla programmazione, sicuramente l'aspetto del ballo quest'anno insieme a quello musicale sarà molto valorizzato. Il ballo è sempre stato un elemento importante del Summer Jamboree e ci mancherebbe altro, però ecco quest'anno magari avete dato ancora più spinta con altre iniziative legate a questo tipo di aspetto. A partire da un dance camp sempre più carico i primi tre giorni della settimana, ma poi a cui abbiamo aggiunto degli workshop la fine settimana successiva, i corsi di ballo gratuiti, il dance show la domenica sera con il gota del ballo internazionale e così come anche una gara di ballo a squadre e a coppie che verrà fatta venerdì 5. Il ballo è uno degli elementi che esprime in maniera fortissima proprio questo desiderio di condivisione che c'è tra le persone, perché al Summer Jamboree la cosa che ci riconoscono, che la gente percepisce, è vedere come persone adulte ballano con giovani e viceversa, c'è un'unione profonda in questa cosa e per me è molto significativo, è qualcosa che va anche al di là del semplice ballo. Cambiamo pagina, Teatro Ragazzi sotto le stelle di Senigallia, venerdì 29 alle 21.30 nel cortile della Scuola Pascoli va in scena lo spettacolo di burattini tradizionali dal titolo Cavoli a merenda della Compagnia Teatro alla Panna, nel quadro della storica rassegna Baracche e Burattini del Teatro alla Panna e della più vasta programmazione del 18esimo Festival di Burattini, Marionette e Teatro di figura Ambarabà, curato dalla TGTP in nove comuni della provincia di Ancona. Nella ormai consueta cornice di via Armellini a Senigallia si rinnova il tradizionale torneo di Burraco, Regine di Cuori, giunto alla decima edizione organizzato dal Comitato di Senigallia della Croce Rossa Italiana. Nella zona antistante il circolo ricreativo, la Fenice, si svolgerà quindi venerdì 29 a partire dalle 21 il torneo in quattro turni di gioco. Primo trofeo Senigallia Skating Memorial Daniele Balducci, appuntamento sabato 30 al porto della Rovere di Senigallia. La competizione che rientra fra le grandi novità del cartello estivo di Senigallia prevede gare in linea, gare sprint di pattinaggio su strada riservate ai giovani campioni di tutta Italia, categorie giovanissime ed esordienti, sia maschili che femminili. Grande manifestazione che si terrà sabato pomeriggio 30 luglio dalle 16.30 in poi qui al porto della Rovere in via della Darsena. Piccola gara su strada dei due categorie giovanissime ed esordienti, pattinaggio in linea, quindi corsa. Ci sarà uno spazio dedicato a più piccoli che saranno accolti dal nostro pupazzo rivierino prestato gentilmente dall'Associazione Riviera Nord. Che dire, i ringraziamenti poi li faremo per vedere se va tutto bene. L'impegno ce n'è tanto, sfioriamo i 100 iscritti per due categorie, soddisfazione massima. Eccoci alle condizioni del tempo di venerdì 29, cielo poco nuvoloso al mattino, sereno per il resto del giorno, a parte qualche cumulo pomeridiano sull'area penninica. Le precipitazioni non se ne prevedono di importanti, i venti assai deboli sull'entroterra, regime di brezza da nord-est sulle coste. Le temperature stazionarie nei valori minimi ne aumentano invece in quelli massimi. Previsioni elaborate da Assam. Grazie per averci seguito, a domani. Grazie per averci seguito, a domani.